A breve sentirete la conferenza Valpolicella Territorio Cemento e Malaffare, la seconda parte, tenutasi il venerdì 22 novembre 2013 a San Pietro Incariano. Passata da 35.000 a 70.000 abitanti in pochi decenni, la Valpolicella ha subito e sta subendo un processo di banalizzazione che sembra inarrestabile. Le bellezze naturali, i dolci paesaggi, i piccoli borghi stanno annegando in una negralizzazione diffusa. Il paesaggio, l'agricoltura tradizionale con i vignetti e i rivetti vengono compromissi. Stiamo assistendo ad un sconsiderato assedio a quel che ancora sopravvive dell'autentica Valpolicella. Interventi di Gabriele Fedrigo, autore di Negralizzazione, Elisa Malinne, mamme della Valpolicella, in particolare la centrale a Biomassa e l'ex area a Nonardi, Daniele Todesco di Valpolicella 2000, in particolare viabilità in Valpolicella come stravolgere un territorio. Conclude dottore Paolo Biondani, moderatore giornalista dell'Espresso, in particolare il giornalismo d'inchiesta contro la speculazione in inizia e le ultime notizie. Registrazione a cura del WWF Verona. In questa registrazione sentirete soltanto la seconda parte della conferenza. Per i singoli interventi di Gabriele Federico, Elisa Malinne e Daniele Todesco, consultate la playlist del WWF Verona. Buon ascolto. Paolo Biondani, mi chiamo Paolo Biondani, faccio giornalista, ho lavorato quasi 20 anni a Corriere della Sera, facevo il coronista giudiziario a Milano, quindi ho seguito tutte le malefatte dei nostri politici, tangentopoli, i processi per corruzione dei giudici romani, mafia al nord, eccetera. Poi dal 2007 sono passato all'Espresso. L'Espresso settimanale che ha una storia di giornalismo d'inchiesta. Non sono tanti i posti dove in Italia un giornalista può fare giornalismo d'inchiesta. C'è un po' delle riserve indiane. C'è il report che spero vediate, è una bellissima trasmissione della Domenica Sera, quella della Gavanelli. L'Espresso ha proprio una tradizione di giornalismo d'inchiesta, che tra l'altro fu inaugurata da gloriosi giornalisti degli anni 50, quando nacque l'Espresso, con un'inchiesta di copertina che fece storia del giornalismo, nei libri di storia del giornalismo se ne parla. Il titolo era Capitale corrotta, nazione infetta. Era un'inchiesta sulla speculazione di Lizza che stava devastando tutta la periferia romana, l'agro romano, che è diventata una zona invivibile, era una delle zone più belle del mondo. Nel mio piccolo, poi l'Espresso è il giornale di Antonio Cederna, che è uno dei padri nobili dell'ambientalismo e della difesa del paesaggio in Italia. Con le sue battaglie giornalistiche ha salvato un pezzo di Via Appia, ha fatto nascere il parco della Via Appia, adesso a Roma c'è il parco Cederna. Quindi, quando cominciamo a scrivere, io sono sempre stato appassionato di lotta alla cementificazione, ho cominciato a fare giornalista sul Lago di Garla facendo degli articoli sul Gazzettino, che aveva un'edizione locale a Verona contro le speculazioni di Lizza. Gli articoli avevano un grande successo, nel senso che i destinatari delle speculazioni di Lizza andavano a comprare tutte le copie per non farle trovare. Però l'opposizione fotocopiava e distribuiva e volantinava. A un certo punto è stato un gruppo di nemo cristiani che avevano volantinato un articolo in casa, è stato un massimo volantinato dalla DC, sono stato contentissimo. In compenso, però, arrivavano sempre i vigili delle botteghe in cui vanno le spezioni. Quindi, ci devo fare, basta, non si è articoli! Quindi, insomma, la lotta a speculazione in Lizza parte da tempo. Adesso, poi, insomma, sono andato avanti, vedo sempre nove più, scandali sempre più grossi in questo paese che sembrano non avere cura. Come dire, guardandolo dal pianeta Marte, è un tipo di sviluppo insensato, quello basato sulla speculazione in Lizza. Perché? Adesso, voi sapete, il vostro vino è famoso in tutto il mondo, il nome del Valpolicello è famoso in tutto il mondo. Anche nel miglior ristorante di New York, l'americano Colto spende un sacco di soldi per prendersi una bottiglia di marrone. Carlin Petrini, quello inventore di Slow Food, viene a ottimi rapporti con l'Espresso. L'abbiamo incontrato, ci dice, guardate che ormai in Cile, in California, in Australia, fanno un vino eccezionale. Se io vendo il mio sommelier e gli dico, assaggia questo vino, pensa che sia un super Tuscany, di quelli, i vini super che vanno in America, che vengono dalla Toscana, o che possa essere. Quindi sono vini assolutamente competitivi con i nostri. Cos'è che è di più il nostro vino? Perché il tedesco, l'inglese o l'americano o il giapponese che c'ha gusto o il cinese vuole il vino italiano? Perché il nostro vino incorpora dentro di sé un'idea di paesaggio. Cioè tu prendi, tu sei il tedesco che beve il vino Valpolicella e ti viene in mente questo paesaggio meraviglioso con le barogne fatte nei secoli dei contadini. Paesaggio non vuol dire ambiente da tenere sotto retro, vuol dire una unione magica, poetica tra ambiente e opera dell'uomo. Ma opera dell'uomo fatta bene, opera dell'uomo fatta con consenso, perché le marogne ti evitano i danni dell'alluvione, perché le marogne scaldano, accumulano caldo e scaldano la vigna e permettono. Perché c'è tutta una sua logica, saggetta contadina, secoli. Questo paesaggio è una cosa meravigliosa. I muretti in pietra che avete qua nella valle di Marano, io sono innamorato di questi muretti in pietra con le lastre di Marano, sono una cosa bellissima. Cioè mettono di, come dire, il milanese che vive in città, il suo sogno è scappare e venire a abitare in un luogo così. Questo qua è un tesoro che abbiamo ereditato dai nostri padri e che dovremmo tenerlo, conservarlo per i nostri figli. Questi politici sciagurati che favoriscono le speculazioni di vizie sono, nella peggiore delle ipotesi, corrotti. Nella migliore delle ipotesi sono dei pericolosi imbecilli. Gli dovete dire, siete stupidi, perché ci state distruggendo il tesoro che abbiamo. Io voglio che i miei figli siano, tra virgolette, ricchi, perché abitano in un posto bello, dove la gente spende per venire a abitare, perché è bello, non perché vede il centro commerciale Tafano, che si vede anche in provincia di Milano, in periferia. Vengono qua perché è bello, le vostre case al valgono a un certo prezzo al metro quadrato, perché attorno c'è bello, c'è bellezza, c'è paesaggio bello. Il vino che vale, perché? Vale perché incorpora questa idea di bellezza che c'è dentro. Mi scaldo un po' quando parlo di queste cose. Bene, a un certo punto, con il busto in mano vicino di Antonio Geremo, propongo alla direttrice dell'Espresso, che per sfidimento poi mi dice di sì, una grande inchiesta sulla speculazione edilizia in Italia, era il 2000, io sono passato all'Espresso nel 2007, era il 2008, non ne parlava più nessuno di cementificazione in Italia, sono i soliti quattro ambientalisti tra di loro, diciamo. Quindi l'Espresso era, uscivamo nel vuoto, non ne parlava più nessuno. Mi metto a cercare i dati che per i giornalisti sono fondamentali. Trovo l'Istat, quindi non voglio dire la stampa comunista o un pazzo, l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, quello che fa i censimenti, ha misurato dal 1991 al 2006 i metri cubi corrispondenti a permessi di costruire, cioè per vuol dire gente che ha costruito con la licenza, quindi resta fuori tutto l'abusivismo che c'è al sud, ma c'è anche un po' qua, al sud è disastroso in Calabria, quindi l'abusivismo non c'è, ma stiamo parlando di edilizia regolare, permessi di costruire. Nel nord-est, dal 91, in 15 anni, dal 91 al 2006, sono stati autorizzati metri cubi più di 3 miliardi di metri cubi di cemento, quasi tutti i capannoni, più di metà capannoni, 3 miliardi di metri cubi nel nord-est, è una follia, una follia, 3 miliardi e 20 cubi, immaginate un metro cubo di cemento lungo 3 miliardi di metri, cioè 3 milioni di chilometri, una follia. Allora ho detto impossibile che sia così, mi metto a misurare il mio comune, la Zia del Piara, che aveva avuto dei sindaci democristiani, se vogliamo, anche se poteva essere d'accordo o meno, ma erano paternalisti, facevano fare le case agli abitanti, hanno favorito case popolari, facendo anche delle cose magari bruttine, ma limitate, perché erano delle case che servivano alle coppie che le avevano a scusarsi e non trovavano a casa. Quei sindaci che dicevano, la Zia dei pochi comuni si erano salvati dalla speculazione di Litte. Nella cosiddetta seconda Repubblica è andato su un sindaco che da solo è stato su 10 anni, ha autorizzato un milione di metri cubi in un comune, in uno dei comuni del Littico nord-est. Su milioni di metri cubi vuol dire, per farvi un'idea, solo in questo comune qua, vuol dire, immaginiamo che il piano di una casa sia alto 3 metri, quindi un milione di metri cubi vuol dire 300, erotti, 1.300, 3.000 metri quadrati, quindi vuol dire 3.000 appartamenti da 100 metri quadrati. Allora, questo comune di Litte ha sempre avuto 3.000 abitanti, quindi 3.000 appartamenti vuol dire una distesa di seconde case bruttissime, dico 3.000, 35, 40, 45 metri quadrati, in cui nessuno della zona ci forrà mai ad andarcela abitare. Non sono case per famiglie, sono seconde case che sembrano costruite in lottizzazioni che sembrano conigliere. Se tu fai un rumore in una stanza, ti sentono i vicini di tre stanze in là perché i muri sono fatti in traforato orrendo. Queste case vengono comprate dal milanese che mi dice sì perché voglio la seconda case. Poi ci viene una volta, un'estate, dice è un cesso che fa schifo perché ho la vista sul parcheggio e ho il vicino che anche se tossisce, per non dire peggio. Quindi io ci vengo più, restano vuote undici mesi all'anno. Sono spreco di territorio e basta. Ora, chi cavolo ci ha guadagnato a fare quelle 200 mini appartamenti di merda che ci sono in località Baruola, la Zise, dove c'era una collina meravigliosa con le cose. Chi ci ha guadagnato? Ci ha guadagnato due facendieri che hanno fatto i soldi senza lavorare perché hanno comprato terreno agricolo dal povero contadino ingenuo che non sapeva che lì c'era la capola sotto, hanno secondo me corrotto i politici nella migliore dell'ipotesi oppure hanno trovato dei politici pericolosi imbecilli che gli hanno dato i permessi senza rendersi conto del guadagno. Quelli hanno comprato a 10-20 euro al metro quadrato e con un corpo di bacchetta magica, senza neanche costruire, senza nessun rischio di impresa, senza rischiare una lira, hanno venduto a 500 euro al metro quadrato solo perché avevano ottenuto la variante. Poi arriva l'impresa, costruisce, eccetera, eccetera. Questi vanno a dire fare i soldi senza lavorare. Noi siamo venditi, io sono nato qua, noi abbiamo i nostri genitori ci hanno insegnato che i soldi sono una cosa come dire sacra perché sono sacrificio, il lavoro è, per dire il tenessere, i nostri genitori l'hanno conquistato con fatica, con sudore, sono morti certi per il lavoro, sono andati a lavorare. Adesso a vedere una generazione di schifosi, sedicenti imprenditori che in realtà sono dei faccendieri che hanno solo il gancio con i politici che gli fanno le varianti per regolatori e fanno montagne di soldi. È una vergogna, è una cosa immorale. Vabbè, mi scaldo. Poi, le lacrime di Cocorillo. Sardegna, no? Avete visto? I morti. Dov'è che sono morti? Allora, questo, dubbiamente ciclone gigantesco, eccetera, sarà scaricato in Gallura. Gallura è una zona che per conformazione del territorio ha il granito, chiaro? Quindi uno si aspetta, dov'è che ci sono i morti? È venuta giù una quantità di acqua mostruosa, sarà nelle zone dove c'è il granito, si impermeabili, l'acqua scorre via e travolge tutti. No, sono 9 morti su 16, sono a Olbia. Olbia è una città in riva al mare che ha avuto una espansione edilizia mostruosa. Hanno fatto i quartieri, questi sciagurati di sindaci, hanno autorizzato i quartieri sotto il livello del mare, chiaro? Quindi lì l'acqua è andata, capito? Tutta l'acqua che è scesa è andata lì e sono morti come le mosche. Poi adesso i politici sono lì che fanno le lacrime di Cocorillo a dire, il cappellacci presidente della regione berlusconiana, aveva appena varato il piano, il grande piano urbanistico per dire, basta vincoli, controviamo anche nell'albio dei fiumi, sì perché l'edilizia porta, adesso è lì che dice che è vicino ai morti, ma è la causa di quei morti, la speculazione è insensata, chiaro? Fanno le lacrime di Cocorillo, che sono le lacrime che fanno gli animali che piangono mentre digeriscono. Alla roba su cui riflettere, in Lombardia c'è una procura attrezzata a fare anche le indagini antimafia, infatti sono diffamatissimi magistrati, sembra che in questo paese, sembra che i delinquenti siano i magistrati, io dico che invece in questo paese fino a prova contraria, da una parte ci sono i carabinieri, i polizotti, la guardia dei finanzi e i magistrati, e dall'altra parte ci sono i delinquenti, va bene? Questi magistrati fanno delle indagini, io mi ricordo luglio 2010, allora di mafia nord non scriveva nessuno, eravamo io e altri due o tre mafie a dire che c'erano le infiltrazioni al nord. Nel luglio 2010 le procure di Milano e di Reggio Calabria hanno fatto in un giorno 300 arresti per mafia in Lombardia, tra Lombardiere e Reggio Calabria, 157 in Lombardia, questa gente tutta condannata, nel frattempo, ormai condannata, nel frattempo sono andate avanti e ne avranno fatti altri 300 di arresti. Gli arrestati sono tutti imprenditori, chiaro, non solo il mafioso con la coppola, e gente che ormai ha fatto il salto, sono i figli dei mafiosi, hanno i soldi, controllavano completamente il ciclo del cemento, ciclo del cemento tutto, cioè Movimento Terra, è un loro settore storico, tutte imprese che congiungette come Barbalo, Papalia, quelli che facevano i sequestri degli anni 70-80, tutto in mano loro, imprese fondate con i soldi dell'eroina, chiaro? Poi adesso ormai ce l'hanno in mano i figli che magari hanno fatto l'università, la facoltà di economia, eccetera, quindi Movimento Terra, per dire le ruspe, eccetera, è in mano loro. Cemento è in mano loro, perché bisogna sempre averlo vicino a dove si costruisce. Spancamento del, tu hai bisogno, cava, no? Hai bisogno della ghiaia, eccetera, le cave sono in mano loro. Poi per fare l'autostrada, per fare la nuova strada, ci vuole la cava vicino, quindi loro hanno la cava, raccontano che usano quella, la ghiaia di quella cava per fare l'autostrada, invece sotto l'autostrada A4, terza corsia dell'autostrada A4, quarta corsia dell'autostrada A4, la Milano, c'è l'autostrada del Nord, Nobili, eccetera, c'è lo schifo, c'è il materale inquinante, perché smaltire costa, quindi anche la grande impresa che deve fare la grande operazione edilizia ha un costo molto alto a smaltire regolarmente i rifiuti che magari c'hanno dentro le miande, eccetera, allora arriva l'Andrangheta con i suoi camion, li prende e li piazzano sotto le grandi opere, poi chi è che va a controllare cosa c'è sotto l'autostrada? Poi naturalmente tutti i comuni attorno si trovano con l'acqua avvelenata e per risanare è impossibile, e poi costi enormi, perché? Perché è chiuso gli alvi e allora ci sono eluvioni, è un modello di sviluppo assolutamente insensato. Quindi una cosa da dire fondamentale è questa qua? Cioè, chi ci portiamo in casa con le nuove speculazioni di inizie? Allora, chi è che ha i soldi adesso? Chi è che adesso, con quella crisi che c'è, può tirare fuori così impunemente 10 milioni di euro per fare una roba che ho visto di mezzo milioni di metri cubi? Allora, io ho avuto, occasionalmente per lavoro, ho conosciuto un capo area della seconda più importante banca italiana, di unicredit, proprio un capo area, c'è una regione intera sotto di lui, chiaro? Lo sapete da quando c'è la crisi? La crisi è nata sull'immobiliare, è nata da un eccesso di speculazione di inizia in America, con un eccesso di finanza che la finanziavano, è nata proprio dall'immobiliare. In Spagna è vistoso che la crisi è un effetto della brume di inizio, di questa insensata speculazione di inizia. In Spagna le imprese che stanno crollando sono tutte le immobiliari, anche qua da noi c'è un confallimento dietro l'altro di immobiliare, quindi lui, una delle più importanti banche italiane, per un'intera regione popolosissima, che non è il Veneto ma che gli somiglia, come budget da destinare in prestiti per società edilizie immobiliari c'ha zero, cioè gli va lì, Marchionne, amministratore delegato della FIED, gli dice voglio 10 milioni di euro per fare delle palazzine, lui gli dice no, chiaro, perché neanche se arriva il Papa, chiaro, lui ha zero budget, quindi voi vedete i signori, perché anche sul lago succede così, la gente che si fa vedere, la gente che si intesta la variante, è spesso la gente del posto, ma poi questi c'hanno, dove li trovano? Un mutuo da 10, 20, 30 milioni di euro, che gli dà i soldi? Allora, in molti casi in Lombardia diventano fantocci nelle mani di chi so, di Cegliani, in questo momento sono organizzatori nazionisti che Cegliano, e in altri casi vendono a società che poi hanno le scatole che portano nei paesi offshore, questo scandalo vergognoso per cui in Italia a Verona si può fare il traforo senza dire chi lo fa, le società che a Verona stanno per costruire il traforo sono anonime, la proprietà fa capo a fiduciari e non si sa chi sono, io lo ho scritto sull'Espresso anni fa, mi aspettavo già un dopo che dicessero no, è tutto chiaro, il padrone della società è tale o è tal'altro, non si sa chi sono i padroni, in un paese come l'Italia, nessunni infiltrazioni mafiose, bisognerebbe anche smettere di parlare di infiltrazioni perché ormai sono presenze, non è che c'è l'infiltrazione, c'era la seconda impresa di lavori stradali della Lombardia che si chiama Perego, nome lombardissimo, dica tu, famiglia notissima, la faccia dell'impresa continuava a essere la famiglia Perego, erano venite in mano all'andrangheta, gli hanno sequestrato tutto, due certe, la vita è fallita, perché poi quelli hanno una mentalità predatoria, non è che fanno il bene della società e fanno lavorare, spuotano tutto e portano via i soldi, chiaro, gli serve solo per riciclare a loro. A questo punto chiedetemi una cosa, in Lombardia la Bocassini, questi magistrati molto bravi, con carabinieri molto bravi, polizia molto brava, hanno dimostrato che c'era un'infiltrazione nafiosa mostruosa, in un paese come Desio, che era la capitale del mobile, il simbolo della briante operosa, c'è il comune che praticamente è stato sciolto per mafia, si sono dovuti dimettere in massa perché c'erano troppi arrestati per mafia, chiaro, una situazione indecente a Desio, Desio, chiaro, non Locri o Corleone. A Verona sembra che non ci siano la mafia, ma non ci sono mai venuti qua. Allora, due ipotesi, o semplicemente non abbiamo una magistratura delle forze di polizia abbastanza attrezzate da vederli, cioè da andare a seguire la pista dei soldi sporchi e da beccarli, chiaro, o la seconda ipotesi è sono allergici alla pera, cioè in tutto il mondo c'è la pera mafiosi niente, questa è la seconda ipotesi non mi sembra molto credibile. Quindi, rendiamoci conto anche che tipo di edilizia, con l'edilizia speculativa, che ci portiamo a casa. La cosa che politicamente dovresti riuscire a far passare le persone per bene è separare l'edilizia del cittadino dall'edilizia degli speculatori. Nel nostro paese c'è anche un problema di democrazia, cioè nell'edilizia siamo tutti sudditi. I cittadini sono persone che hanno diritti, chiaro, tu Stato, non Stato di diritto, anche chi governa deve rispettare la legge e il cittadino ha i diritti, la rivoluzione francese è la novità grande che ha fatto questa, il cittadino ha dei diritti, anche nei confronti del sovrano. Nell'edilizia siamo sudditi, per cui se tu c'hai la tua casetta scala, magari bella tutta in pietra, e poi aprire la finestrina perché c'è il bagno senza finestra, se vuoi aprire la scala c'è un contadino fantastico, buddista, uno che se lo incontra Papa Francesco lo fa santo da vivo, c'è un personaggio fantastico, un mio idolo, un contadino della Lago di Garda, che vuole farsi la scala fuori dal rustico perché così gli permette di rendere abitabile il piano superiore come casa autonoma e farci abitare il suo figlio, no perché te rovina il paellaggio. Allora lì sei suddito, sei in balia del cretino del capo ufficio tecnico che così arbitrariamente dice sì, dice no, eccetera, e sulle cretinate sono implacabili, chiaro, per cui la finestrella mai, il tizio che abita un metro dalla superstrada statale dice scusa vorrei demolire e farmi la casa 50 metri più in là, tale e quale, non sembra di essere un autodromo di Formula 1, a proposito, il prossimo anno invece Glamarone parte la Formula 1, mi pare chiaro, quelli no, arriva invece il pesce cane con le società anonime, il facendiere locale, il politico che basta guardarlo e sembra di dar ragione all'ombroso, di quelli proprio destinati, predestinati alla galera che li vedi che proprio mangiano, questi qua invece dicono, prendono un pezzo di collina sul lago di Garda, variante, accordo di programma, indeloga tutto, per cui non devi neanche capire un accordo di programma, fanno, dichiarano di fare il nuovo piccolo turistico, la nuova strada, eccetera, e vai di 200.000 appartamenti, e chi ci ha guadagnato lì? Chi ci ha guadagnato il costruttore se va bene, cioè se almeno sei l'impresa onesta, e ci ha guadagnato il padrone del terreno, cioè anzi, chi ha comprato il terreno sagacemente, perché sapeva che lì ci poteva fare la cavola, chiaro, ci ha guadagnato in due, tutti gli altri ci perdono, perché per tutti gli altri il tizio che prima aveva la vista su un vigneto meraviglioso, su un posto meraviglioso, su un pezzo di paesaggio, e quindi la sua casa valeva 3.000 euro al metro quadrato, quando davanti c'è una ciofeca di centro commerciale buon parcheggio, la sua casa ne va in mille, ci ha perso, ci perdono tutti gli altri, quindi non è una questione, cioè bisognerebbe anche riuscire a far passare questo concetto, però è una questione ambientalistica, come dire, per tenere sotto vetro la natura e vedere le lumache che trombano, adesso faccio per dire, insomma, mi vengono esempi meno stupidi, ma insomma ci siamo capiti, paesaggio vuol dire proprio con l'opera dell'uomo incorporata, ma lo vogliamo, l'opera dell'uomo che lavora, vogliamo i nostri padri, vogliamo l'edilizia dei nostri padri, vogliamo i muretti di Marogne, ogni muretti in pietra, questa è la cosa bella che ti fa star bene, è una questione di estetica, di bellezza. Chiudo perché dopo sicuramente ho chiaramente sbraccato, mi scuso se ho detto ancora, però su queste robe io mi riscaldo perché è una cosa vergognosa, io poi abito sul lago di Garda, non avete idea, cioè lì sul lago di Garda è stata proprio la, è come se fossero passate le cavallette, ogni tanto faccio qualche articolessa di quelle che faccio agrabbiare i politici eccetera eccetera, riusciamo in qualche caso a ritardare qualcosa, non so, volevano fare una roba al poscolano moderno che era mostruosa, c'erano 6 torri alte, 6 piani, con 30-40 mila metri quadrati l'una, una roba pazzesca, le avresti viste da Pacengo, vedete, all'altra parte dell'ago vedete queste 6 piramidi di Cheope in riva al lago, a 50 metri dall'ago con una cosa, una roba vergognosa, poi scarrati un attimo, chi è che la fa l'operazione? La fa il grande amico del politico nazionale, è ovvio, con i poveracci del partito locale, in quel caso era una giunta di centrodestra, tutti sudattenti perché si chiama il grande politico nazionale, dice questa roba qua deve passare e tutte queste roba qua sono tutte così, perché chi è che ha della zona che ha 20 milioni di Euro in questo momento da investire per far mezzo a milione di metri cubi in cemento adesso con la crisi che c'è, ma dove? Ma che film? Poi tenete conto che la quantità di soldi che hanno fatto i mafiosi con il traffico internazionale di rovinia, cocaina eccetera, è impensabile, impensabile, sono quantità di soldi di cui la magistratura che ogni anno sequestra, voi sentite, 9-10 miliardi di Euro, vuol dire tutta l'immu per intenderci, ogni anno è come se ci pagasse tutta l'immu la magistratura, con le mitiche intesortazioni che volevano abolire, chiaro? Ma questo sequestrato, questo confiscato, i mafiosi beccati, i soldi che hanno trovato è sempre una percentuale infinitesima dei soldi che hanno fatto negli anni, quindi c'è tutta un'economia nera di livello mostruoso in Italia sopra la quale galleggiamo, chiaro? Se voi andate in certi posti della Calabria i consumi rispetto ai renditi dichiarati, sono 10 volte tanto, quindi trovano i soldi sugli alberi, oppure vuol dire che sono soldi fatti disonestamente, no? E poi più delle volte tu trovi i paesi della Calabria desolati e poi trovi investimenti pazzeschi fatti da imprenditori calabresi, no? Adesso parlo dei calabresi perché sono un po' la nuova emergenza, comunque vi sto sicuramente annoiando, spero di avere un po' così, come dire, contribuito a far aprire degli occhi, soprattutto voglio dire, insomma, siamo il popolo veneto noi, abbiamo sempre avuto una traduzione di lavoro, sacrificio, scoponi, no? Ci hanno sempre preso in giro questi veneti che in questo momento secondo me stiamo proprio facendo la figura dei pirma, proprio per dirla, cioè siamo gli stupidi che il loro territorio meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, la Serenissima è diventata grande perché, voglio dire, se uno alterava il corso di un canale, lo imparavano, c'erano pene draconiane per chi, no? E adesso noi invece no, noi ci facciamo fare, ci facciamo distruggere la terra dei nostri padri, non lasceremo ai figli, lasceremo un paesaggio diventato schifoso e per cosa? Per arricchire quattro facendini del cavo, ma che vadano a lavorare. e vi do un'altra volta la parola per una cosa, perché un incontro che ha fatto a Pescantina Tirta, centro Tirta e Pescantina, gli è venuto un lampo a un certo punto, parlando, siccome qualcuno, forse l'idea gli ha fatto un precisato, gli stava raccontando la storia della Lunardi che è passata, tutta una serie di scatole cinesi, di passaggi, e sempre dentro, sapete che è passata a figura 22, poi è resso alla camera, e dentro ci sono delle fiducianze, delle cordi, sì, c'è, tra tutte le situazioni, dietro c'è sempre un personaggio che è quello che ha comprato, Cordioli, la cordi, finquant'altro, e lui è venuto in mente che c'è stato un, e vorrei chiedere se hai questa illuminazione, di Pessina, ti ricordi se tu che ce l'hai ricordato, cosa c'entra? La lista Pessina è un avvocato svizzero, è entrato nella leggenda perché è riuscito a far si ricostrare dalla guardia di finanza italiana, il computer, un avvocato che di mestiere fa il fiduciario, praticamente è, come dire, un prestanome di lusso che si inteste i conti correnti degli evasori, no? Quindi compare solo il nome dell'avvocato e tra la realtà i soldi sono dell'evasore italiano che ha portato di nascosti sui soldi svizzera. Questo ci aveva 522 nei quali che fossero clienti, chiaramente tutti milionari e tutti italiani. Lui era italo-svizzero-ticinese e la guardia di finanza c'era arrivata indagando su un redditore, insomma adesso lasciam perdere la storia, comunque insomma arriva in aeroporto e gli ha sequestrato il personal computer in cui c'era l'archivio e quindi uno spascherato di evasori in tutta Italia. Noi siamo stati con l'Espresso, io e mio collega molto bravo che si chiama Vittorio Malagutti, siamo stati tra i primi a mettere le mani su sta benedetta lista pessina. Abbiamo scoperto, per esempio, che c'era un commercialista dell'Opus Dei di Verona che reclutava clienti per questa lista pessina. Si chiamava Siro, mi ricordo il nome di Battesimo Siro. Quindi c'è un sacco di veronesi dentro, perché uno dei grandi procacciatori via. Allora andiamo a vedere chi sono questi evasori, c'era una quantità di soldi pazzesca dentro. E troviamo un Fratelli Cordioli. Adesso mi sono sempre chiesto, perché non avevamo il codice fiscale, però nel frattempo la Valle di Finanza ha fatto le indagini, quindi mi vi promettevo di andare a vedere quali i Cordioli erano. Un sospettino su quali i Cordioli sono, ce l'ho, perché Fratelli Cordioli c'è anche una ditta che c'ha sta donna, però magari è un caso di omonimia, non è un comore. Quindi, vabbè, comunque staremo a vedere. Nella prossima puntata, secondo patto l'Espresso, che contribuja a giornalizzare in chiesa. Allora, raccordiamo la promessa di approfondire sul Messina e i Cordioli, perché ci interessa anche da vicino per San Pietro. Volevo anche dare la parola, adesso ci sono in sala anche dei comitati e associazioni che sono sempre spesso criminalizzati, perché non si sa ancora capito perché. Quindi io ringrazio stasera anche il comitato del traforo, che c'è Gian Paolo Vittoruzzo e Cristina Stevanoni che sono voluti essere qua, che hanno svegliato la città di Verone e hanno messo in crisi, non si sa a che punto, un potere che nasconde ancora i dati. Al di là, non stiamo parlando di… avete visto, abbiamo fatto nome, non abbiamo parlato particolarmente di partiti, c'è un problema di cultura politica e cultura sociale, cultura che deve essere cambiata. Quindi ringrazio loro e c'è anche del movimento Ambiente Vita di… sapete che è un'altra realtà che ha messo in crisi, un'amministrazione come quella di Pescantina, al fine costringendo, pressando in qualche modo anche l'admissione del Sindaco, quindi in qualche modo un successo importante di presa di coscienza. Anche loro di recente formazione. C'è Franco Benedetti, lo preghiamo valentemente di fare un… se c'è, c'è, mi ha detto che c'è. Ecco, Franco, se ci vuoi aggiornare velocemente, in modo che facciamo in panoramica… Siamo andato a Pescantina, no? Adesso per quello che ho detto, lasciamo Pescantina un po'. Franco, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Io cercherò di essere veloce, l'orario è anche tardo. Facciamo solo un aggiornamento per Pescantina. Diceva bene, Pescantina non l'hai trattato, ma Pescantina è proprio all'imbocco della Valpolicella, cioè per arrivare a Valpolicella bisogna passare a Pescantina. E la prima cosa che si incontra, passato il ponte, è questa zona di discarica. Ed è una discarica grandissima che ormai va avanti da tantissimi anni. I primi rifiuti sono stati collocati negli anni 70 e poi questa discarica che ha trovato la sua esplosione come discarica regionale, come buco dove tutti hanno portato dei mondizi. Il buco è stato fermato nel 2006 da parte della Procura perché abbiamo ritrovato, la Procura ha ritrovato situazioni di inquinamento e da lì un iter lunghissimo per arrivare al processo, processo che c'è stato e che come tutti i quali processi arrivano allo scadere dei tempi tecnici, per cui quasi tutti assolti. In primo grado poche condanne, è però un progetto che deve ripartire. E per ripartire, visto che hanno fatto un altro buco, hanno fatto un buco di 20 milioni di euro. Per cui dobbiamo non solo riprenderci i conferimenti dei rifiuti, ma dovremo anche riparare il buco in termini finanziari. Abbiamo una situazione disastrata, con un livello di percolato altissimo, abbiamo 30 metri di percolato in discarica e una situazione di inquinamento che sta peggiorando. Allora per fare questo, per risolvere che cosa avevano pensato? Allora allarghiamo ancora la sede della discarica. La facciamo ancora più grande, perché quella che abbiamo non ci basta. E non ci basta mai perché Pescantina, come dicevo, è dai primi anni settanta che sviluppa discarica dopo discarica e che accoglie rifiuti dopo rifiuti. La paura dei cittadini è stata tale che in una settimana abbiamo raccolto quasi 4.300 firme dei cittadini. Il comitato si è immediatamente attivato, abbiamo battuto tutte le sedi e siamo riusciti attraverso l'autorità di vigilanza per gli appalti a bloccare il primo progetto, il primo progetto di aumento di volumetria. Non è stato sufficiente, vero? Perché il progetto deve andare avanti e allora hanno chiesto di presentare un secondo progetto. progetto non sono riusciti nemmeno a far passare il secondo progetto. Sul secondo progetto l'amministrazione è caduta perché non ha avuto il coraggio di ritirare il progetto che avevano messo in piedi. Siamo commissariati da maggio, abbiamo lasciato al vice prefetto, la dottoressa Macchinè, abbiamo lasciato la possibilità di capire, gli abbiamo predisposto tutta una serie di documentazioni per fargli capire dove siamo, cosa è l'iter, a che punto stiamo andando. Abbiamo cercato di aiutarla per fargli capire dove può reperire i fondi, come si può muovere, però la società che gestisce dice che non ha più soldi per asportare il percolato. Sono due anni che non ha asporto il percolato da livello. La provincia, dopo aver sbandierato su tutti i giornali che c'è la disponibilità dei fondi, parlo dell'assessore Venturi, adesso dice che i fondi non possono più essere dati a Piscantine e che dobbiamo mettere in piedi un altro progetto e naturalmente la regione sta aspettando a braccia aperte di avere un altro progetto. Allora noi siamo ritornati adesso e avremo un prossimo incontro al 9 di dicembre dove nuovamente ci ritroviamo e ci ricompattiamo perché vogliamo una sola cosa fondamentalmente, capire da dove parte l'inquinamento, quali sono le cause dell'inquinamento e prima di riaprire la discarica perché il tentativo è quello di smobilitare tutti i rifiuti, per metterne tanti di più, prima di accettare qualsiasi progetto vogliamo sapere da dove arriva l'inquinamento e solo sapendo da dove arriva l'inquinamento si potrà predisporre un progetto. Ecco, la lotta sulla Piscantina riprenderà e riprenderà anche probabilmente su tutti i giornali già con questo fine settimana, le prime schermaglie arriveranno e spero che non saremo soli, non lo siamo mai stati, ma che potremo ancora dare questa grande dimostrazione secondo noi che si può fare, cioè si può in qualche maniera limitare e limitare i danni per quanto riguarda il territorio. Questo è un po' in breve sintesi quello che noi stiamo facendo. Grazie a tutti. Il 6 dicembre sul Circolo Noi c'è una serata molto importante, ci sono una serie di persone che ancora una volta per riflettere sul futuro della Policella, ci sono le amministrative anche che prossimo anno, che cosa ne facciamo, c'è una grande difficoltà, anche le realtà, i comitati, l'associazione si sta ragionando, che cosa ne facciamo, che proposta facciamo, confrontiamoci e approfondiamo. Stasera manca una serie di persone di Fumane che nel Comitato Fumane che voleva essere qua, hanno dato via, hanno deciso di prendere in mano la situazione e dar via alla lista civica per esempio, che abbia come elemento caratterizzante lo stop consumo al territorio e l'esperienza dei comuni virtuosi che hanno già praticato questa esperienza amministrativa come elemento di riferimento. Insomma, è una riflessione in corso, bisogna che la facciamo, anche perché spesso vecchio e nuovo, chi ha amministrato e opposizione sono sempre stati nella stessa logica, bisogna cambiare. Ci diceva, sì, direi, dopo l'annuncio che ci dà Elisa Narin, se c'è qualche domanda ci diamo un tempo ristretto, diciamo anche che alla fine le mamme, naturalmente nel perfetto stile che le condavestinte hanno preparato anche dei panini, perché? Perché se vuole un attimo, dopo chi vuole, fermarsi un attimo. No, più che altro l'abbiamo fatto per far digerire tutta la roba che... Si, rimarrà lì. Anche perché credo che, insomma, probabilmente è bloccato qua e allora magari mettendoci qualcosa sopra e bevendoci sopra scende, sperando che non scenda troppo e che rimanga nel cervello e nella mente. Quello che volevo dire è un'informazione che mi sono dimenticata di dire prima e che è molto importante. Per quanto riguarda l'area Lonardi e tutte le persone che sono interessate, siamo tutti interessati, però a questo momento ci sono 60 persone che hanno avuto comunque l'avvio del procedimento con il vincolo preordinato all'esproprio. Probabilmente, questo è quello che ho consigliato alle persone vedendo le carte, ho consigliato alle persone che mi hanno contattato, su cosa era possibile fare. Secondo me in questo momento c'è da fare ricorso al TAR, come la centrale a biomasse. Si ripete la storia. Per cercare di fermarli, questi, bisogna ricorrere al TAR. I presupposti ci sono, bisogna tirare fuori i soldi, come sempre. E questa è l'informazione richiesta. Non so se avete capito, è un'informazione che do, ma chiedo il supporto di tutti a favore delle persone che sicuramente dovranno spendere e fare i soldi. Ma questo ne godremmo tutti, perché bloccando, in questo momento qua, che il DITER non è concluso, si può chiedere la sospensiva. Quindi dando la sospensiva, potremmo fermare la cosa. I tempi come sono? Sono strettissimi. Dove? Poco. Un mese. Un mese. Un mese. Non di più. Un mese. 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 che sto chiedendo stasera. Un impegno costa anche questo. Cioè, quindi bisogna attivarsi, perché non è che... Questo sarà su 5.000. Sì, sì. Su un 5.000 euro più o meno un ricorso al danno. non è un ricorso normale, costa di più di un ricorso normale, 5.000 euro servono solo come quando è successa la centrale di Omasse per attivare tutta la procedura, ma poi ci sono le estrazioni di tutto quello che viene depositato e quindi per andare in tribunale servono molti altri più soldi, quindi non sono solo i 4.500 euro iniziali, poi si deve andare avanti, perché in questo momento la centrale di Omasse è ferma, è fermo il ricorso al TAR, perché l'estrazione non è stata fatta, perché se fosse stata fatta l'estrazione ci sarebbe stato da spendere molti più soldi, purtroppo la cittadinanza di San Pietro Incariano non ha risposto in questo, non possiamo pensare che 20 persone che abitano la Casa Rossa tirino fuori tutti questi soldi, se anche noi tutti quanti siamo in 13.000, avessimo tirato fuori 10 euro a testa, ma qua aspetta un attimo, po' anche a massa adesso, forse molto meno un euro a testa non staremo neanche più a parlare, quindi se altrettanto facessimo per il ricorso al TAR che servirebbe per formare l'area Lonardi, credo che un euro a testa lo diamo anche a... ecco, se volete lasciare i soldi per questa sera la causa andrà... un'altra cosa, io sto preparando, e qui guardo il giornalista che abbiamo qui, sto preparando un esposto, un esposto grosso, anzi l'ho già preparato, ok? Quindi volevo solo avvisarvi anche quest'altra informazione, io non ho altro da dire... e sulla sovraintendenza c'è un problema in generale, c'è una cultura che sta odiando la sovraintendenza, come se la sovraintendenza sia quella che pone i problemi, è quella che si occupone tutto, è una sorta di fortino assaltato e naturalmente sembra anche quella di Verona molto sensibile alle pressioni politiche, in qualche modo, e probabilmente in una cultura di assalto questa cosa sta avvenendo, ci sono molti vincoli bloccati, tantissimi vincoli che voglio dire un vincolo, tutelare quello che si è detto quel punto, cioè forse anche aporiandolo, come dicevi prima, cioè almeno salvare delle nicchie, nemmeno quello, tenete conto che comunque già adesso, proprio per la presa di coscienza che dovremmo avere il nostro territorio, solo il comune di San Pietro dovrebbe essere orgoglioso di avere 29 siti vincolati monumentalmente dalla sovraintendenza, Vimle, Corti Ruttici, il castello di Castelrotto, i Rudi del Castello, c'è tutta una serie di serpiedi e quant'altro, quindi c'è una serie di serpiedi e quant'altro, quindi c'è una serie di serpiedi e quant'altro, di un patrimonio riconosciuto, che potrebbe essere anche maggiore perché una serie di vincoli sono assolutamente invece mancanti in qualche modo, i vincoli sono uno degli elementi più forti di tutela del paesaggio e naturalmente capite che danno fastidio a molti. Bisogna dire che il vincolo del 57, c'è un vincolo paesaggistico sulla Valpolicella, quello che ha voluto Pietro Gazzola, che era stato sovraintendente, che è stato convertito in legge del 23 maggio del 57, è in vigore, quindi questo vorrebbe dire che tutti i progetti, i progetti di qualsiasi cosa dovrebbero avere il placentio della sovrintendenza. Attenzione perché la sovrintendenza le armi le ha, le ha sempre avute, le ha sempre avute, allora bisogna nuovamente capire come mai che quelle possibilità di azioni che aveva la sovrintendenza non le ha messe in moto. Quando ho scritto al capo di gabinetto del ministro, il capo di gabinetto del ministro, io naturalmente l'ho scritto una lettera, l'ho detto guardi, il ministro sta succedendo, questo poi l'altro, mi dice, mi risponde così, regreggio signore, ci hai sottoscritto, mi riferisco alla sua mail e all'attenzione del ministro, in merito al piano di assetto territoriale del suo comune. Tra le riguardo gli uffici competenti interessati della questione mi hanno fatto per venire la nota, uffici competenti volrebbe dire la sovrintendenza di Verona, che per brevità intengo opportuno inviarli in coppia e rassicurare che sarà mia cura giornata sui eventuali seguito, corvo l'occasione, eccetera, eccetera. Allora, qual è questa nota? Questa nota qua recita così, oggetto negra al piano di assetto territoriale. Tanto per capire che si fa presto a dire sovrintendenza, altro che pressioni, non so se definirle pressioni o qualcosa di molto più grave. Con riferimento alla questione in oggetto, scrive la sovrintendenza, al ministro, perché l'interrogazione era stata fatta al ministro, il ministro cosa fa? Si rivolge a chi è rappresentante del ministro sul territorio, chi è il sovrintendente. Come si chiama? L'anna da vicino a vicino a vicino a vicino. Allora, si informa che non sono ad oggi pervenuti progetti riguardanti lottizzazioni nel territorio comunale di Negra. E' arrivato dall'altra parte. Questa sovrintendenza comunque, in seguito alle segnalazioni inviate, ha chiesto chiaramente al sindaco che sarà ricevuto al fine di acquisire ulteriori informazioni in merito. Pertanto sarà cura di questo ufficio tenere aggiornata con questa segreteria del ministro circa degli aggiornamenti futuri. Bene, questo incontro con il sindaco, il sovrintendente, la sovrintendenza c'è stata. Sul giornale d'Arena, ritorno al discorso giornale d'Arena, per fargli sentinelle, l'incontro è andato benissimo. Allora, dice dal nego, l'incontro è andato benissimo. Non vedete da quale parte, per loro, per il nego, sì. Allora, io, naturalmente, lì non comment, non comment. Benvenuti, la battuta, tutta la parte del popolo è iniziata quando fu restato un certo Mario Chiesa, che era il presidente della Vagina, all'ospizio di Milanesi, e invece è scandalo il fatto che ci fosse un politico che rubava sugli appalti degli anziani, insomma degli anziani che dovevano andare in un ospizio, perché avevano una famiglia che gli stava dietro, insomma, invece è proprio scandalo. Si chiamava Vagina perché è sulla strada Perbaggio, ma il nome tecnico era Pio Albergo Tribunzio, in sigla PAP. Bene, dai, andiamo, diamo anche soddisfazione al comitato che ha preparato qualcosa a rinfrescare, a rinfrescarci, no, perché sono le 11 e 26, speriamo che la serata sia stata di approfondimento. Avete ascoltato Valpolicella, territorio Cemento, il malaffare, conferenza tenuta si venerdì 22 novembre 2013, a San Pietro in Cariano, registrazione a cura delle WWF Verona. Per sentire la prima parte, consultare la playlist delle WWF Verona. Questa è soltanto la parte conclusiva. Grazie nell'ascolto.